Questa volta tocca a Fabrizio Corona essere vittima del gossip. Che cosa è successo in questo caso specifico? Che Novella 2000 ha pubblicato una foto che Fabrizio Corona dichiara essere un falso. Novella 2000 la conosciamo, non è la prima volta che pubblica delle foto un pochino ritoccate. L'ultima appunto è quella di Laura Pausini che la mostra il doppio fisicamente di quello che è. Sapete che Laura Pausini è incinta mentre la foto originale è sicuramente la metà di quella foto. E' stato mostrato sul sito del fan club di Laura Pausini. Insomma quindi è chiaro e palese che ritocchi un pochino le foto. In questo caso specifico invece Fabrizio Corona è stato vittima tra parentesi di Novella 2000. Nella foto incriminata si vede un Fabrizio Corona che discute cavalcando la sua bicicletta con un paio di amici. Mentre alle spalle di Fabrizio c'è uno Stefano Di Martino che lo guarda con fare un pochino minaccioso e in qualche maniera Fabrizio evita lo sguardo di Stefano. Chiaramente Fabrizio Corona si è un po' arrabbiato, se l'è presa un po' con Novella 2000. Noi non sappiamo se effettivamente questa foto è vera o non è vera. Certo mi sembra un pochino strano che Fabrizio abbia evitato lo sguardo di Stefano conoscendo insomma il tipo. Fabrizio Corona secondo me si sta rivalutando in questi ultimi tempi perché chiaramente questa fotografia, questa notizia apparsa sul Novella 2000 l'avrebbe mandato forse prima in escandescenza, invece in questo momento ha fatto addirittura una cosa veramente ironica. Ha firmato un assegno di 100.000 euro, l'ha intestato RCS, l'editore di Novella 2000 e si dichiara pronto a consegnarlo in caso si riuscisse a dimostrare che quella foto è vera. E come si può dimostrarlo? Mostrando il rub, cioè il formato originale dello scatto. Per chi non lo sapesse, anche io non sono un esperto, ma il formato rub è un formato che la macchinetta fotografica scatta e è un formato molto particolare, sono diversi scatti con diverse esposizioni per poter poi miscelare queste foto e ottenere una foto di altissima qualità. Però questo scatto rub è come se fosse il negativo per le vecchie pellicole, quindi è inalterabile in qualche maniera e quindi è proprio della dimostrazione chiara e palese che la foto è originale. In questo caso Fabrizio Corona si mostra con questo assegno in mano, intestato RCS e chiaramente sfida RCS a mostrare la velocità di questa foto. Quello che vediamo è un Corona cambiato perché, ripeto, in altri tempi probabilmente le cose sarebbero andate in maniera diversa. Io lo sto rivalutando come persona perché Fabrizio ha sicuramente fatto un cambiamento forse chiaramente dovuto anche a tutto quello che ha passato, alle condanne e tutto quanto però io lo ammiro perché chi sa cambiare, sa riconoscere i propri errori è una persona comunque da stimare perché non tutte le persone, le brave persone riconoscono i propri errori e quindi lui che riteniamo comunque che abbia sbagliato soprattutto in determinati atteggiamenti, in determinati cose, poi la giustizia farà il suo corso per quelle che sono tutte le sue cause. Però Fabrizio è da mirare appunto dal punto di vista umano perché è riuscito a uscire fuori dalla sua storia e tutto quello che è successo secondo me a testa alta. E questa è la dimostrazione, questo fatto di aver scritto l'assegno è veramente un fatto positivo perché l'ha dimostrato forse con un'eleganza di poter sfidare qualcuno, non sicuramente a pugni o a spinte ma con intelligenza. Bravo Fabrizio e secondo me diamo un voto negativo a Nuovella 2000 che un po' troppo spesso cerca di fare degli scoop con queste foto diciamo un pochino ritoccate.